Ciao da Avsim, ok la situazione di Maria, ok Pogba, vediamo un po' che cosa succede sul fronte dell'ICT, ma quando è che la Juve prende un regista? Vorrei che la Juve prendesse un regista ma non uno di cinema, torno a fare cinema, oppure mi viene in mente anche se volete lo spettacolo andate al circo, che è comunque spettacolo anche se al circo il regista non c'è, però un regista serve ed è appunto il regista di centrocampo, un centrocampista che sappia dettare i tempi, costruire, impostare, sostanzialmente gestire il pallone per fare la transizione, cioè portare la palla dalla difesa all'attacco, tenere anche il possesso per evitare che gli avversari possano attaccare, perché vi svelo questo segreto, il possesso palla è anche un'ottima fase difensiva, cioè se tieni tu il pallone stai evitando che ce l'abbiano gli avversari preventivamente, quindi non è importante tenere il pallone? Direi di sì. In una Juve di Allegri, 21-22, che ha bypassato continuamente il centrocampo, sempre bypassando il centrocampo, non ci siamo mai passati per il centro, il pallone dalla difesa andava direttamente sugli esterni e dagli esterni direttamente in profondità, oppure dalla difesa direttamente lunga con i lanci, e infatti abbiamo progressivamente svuotato il centrocampo, partita dopo partita, tanto che il regista a un certo punto non serviva neanche più, all'inizio era Ramsey, addirittura nel precampionato, poi Locatelli, ma abbiamo presto scoperto, in realtà già si sapeva che Locatelli non è un regista, non può fare quel compito perché tra l'altro è lento, tra l'altro Locatelli è lentissimo a impostare e ha delle palle lunghe imbarazzanti, Locatelli sulle palle lunghe imbarazzanti, soprattutto sui cambi di gioco, lentissimi e spesso imprecisi, tra l'altro Locatelli che si è involuto purtroppo nel corso della stagione, ma chi non l'ha fatto? Chi è migliorato, anzi chi non è peggiorato nel corso di questa stagione sotto la guida di Massimiliano Allegri, anche se poi ci sono gli allegriani che si arrampicano sugli specchi e dicono no, no, è vero, è migliorato Scesni, Scesni, figuriamoci, e quindi Locatelli è una mezzala, è una mezzala di proiezione, è una mezzala di inserimento, infatti i gol e gli assist che ha confezionato, col Torino, con la Roma, tutti da vicino all'area di rigore, non è uno che ti tira da lontano o ti fa il lancio all'apirlo, Locatelli è un altro tipo di giocatore, ha bisogno di un regista accanto perché è una mezzala, siamo pieni di mezzali, infatti potrei rispolverare una mia vecchia grafica che adesso devo aver perso, ma l'avevo pubblicato sui miei canali qualche anno fa, Max Mezzali, ecco, il nuovo album di Max Mezzali, non so, come Cortomuso, Max Mezzali, perché sì, perché adora le mezzali, cioè abbiamo Locatelli, Rabiot è una mezzala, Pogba è una mezzala, anche i giovani che devono essere aggregati, Miretti, Fagioli, Miretti è sostanzialmente un trequartista, l'abbiamo visto nelle sue apparizioni di fine stagione, è uno che deve stare vicino, può fare addirittura quasi la seconda punta, è un trequartista che sta dietro l'attaccante, avete visto come dialogava con Vlaovic dentro l'area di rigore, non è un regista, Fagioli è un altro che si potrebbe adattare, ma come ha giocato la Cremonese? Sa dettare i tempi, sa impostare, ma anche lui nasce trequartista e si sviluppa come mezzala. Ora, se Allegri sta pensando, innanzitutto speriamo che Allegri stia pensando e non stia solo in vacanza, se Allegri sta pensando ad un centrocampo a due, le cose cambiano leggermente, perché in un centrocampo a due puoi anche non avere il regista in posizione di mediano, cioè immediatamente davanti alla linea di difesa, perché con l'asse a due, con il segmento direi a due, metti un palleggiatore da una parte e un interditore palleggiatore dall'altra parte, quindi potresti mettere Locatelli Pogba per esempio, però poi mi dovete sempre dire, se il rabbio resta che fa? Il vice Pogba, così 7 milioni per stare in panchina, Zaccaria che cosa fa? Meccenni che cosa fa? Miretti e Fagioli quando giocano? Quindi sono tante domande, però con il centrocampo a due staremmo perlomeno coperti in termini numerici, però mi rende insoddisfatto e mi preoccupa il fatto che fino a questo momento, con tutte queste voci di mercato e anche tutte queste operazioni abbozzate o definite, la Juve non stia lavorando seriamente, ma preliminarmente per un regista, cioè il regista è il grande vuoto della Juve di Allegri 21-22. Alla Juve di Allegri 21-22 non è mancato l'attacco, perché abbiamo avuto un Dybala da 21 tra golle assist, abbiamo preso successivamente Vlaovic, non sono mancati i difensori, perché abbiamo ancora avuto De Ligt, giocava ancora Chiellini, Bonucci si è un po' infortunato ma comunque c'era, è mancato il centrocampo nel senso della regia, dell'impostazione. Allora come fai a iniziare la stagione successiva senza prendere innanzitutto, come prima cosa prioritaria, un regista? E siccome il regista è un giocatore fondamentale, perché è quello che deve toccare più palloni e fare più passaggi, deve essere integrato presto nella rosa e quindi deve cominciare il precampionato il prima possibile, perché deve conoscere più di tutti gli altri compagni, perché è colui che passerà il pallone a tutti gli altri, il regista. Non è come un terzino che raramente passa la palla all'altro terzino o all'ala che sta sulla fascia opposta, quindi è meno cruciale l'impostazione, la costruzione, l'organizzazione, la preparazione dei giocatori, di un giocatore che non è un regista. Per un regista invece è fondamentale che inizi subito, perciò lo devi prendere prima. E siccome è un giocatore fondamentale, come anche i difensori centrali, non è facile che una squadra che ha un regista bravo, forte, prenda e te lo dia nel corso del calciomercato, rimanendo poi scoperta. Lo stesso discorso di Delict, va bene vendere Delict, va bene pretendere i 120 milioni della clausola, ma tu lo devi fare dopo che hai già preso il sostituto, dopo che hai già preso il sostituto, che non c'è. Anzi, noi avevamo preso Delict e i sostituti e compagni di Delict nel 2019. Demiral e Romero, sono spariti tutti e tre a questo punto, se Delict effettivamente se ne va. Ma tornando al discorso regista, ecco, immaginiamo un centrocampo a due, più o meno, più o meno, ma ripeto, chi è che velocizza il gioco? Tra Pogba e Locatelli, che sono due lentoni. Pogba e Locatelli, sì signori, sono due lentoni, sia senza che con la palla. Pogba è uno che si addormenta con la palla al piede, che a un certo punto ti fa il guizzo, ti fa la giocata, ma ha quel modo di incedere irritante, che saltella quasi, non è che corre, e ti fa la corsa, lo strap, poi fa il freestyle, il colpo così di là. Locatelli invece, senza questo freestyle, senza questa tecnica, senza questo modo di incedere, ripeto, non velocizza, l'abbiamo visto, è lento. Siamo stati un anno a lamentarci di Arturo, perché Arturo era brutto e antipatico, ma non mi pare che Locatelli sia tanto meglio, in termini, anzi, è peggio, secondo me, rispetto ad Arturo, anche per verticalizzazione, perché sì signori, Arturo è uno dei centrocampisti, dati alla mano, che verticalizza di più della Juve attuale, che ha più potenziale da verticalizzazione. Quindi a noi cosa serve? Un regista che imposti sul corto, ma anche che sappia verticalizzare, soprattutto per sopperire ad un Bonucci che potrebbe essere assente, e allo stesso Delict, che comunque è sempre stato molto bravo con i piedi nella primissima impostazione. Se quindi, ecco, innanzitutto, si stava andando verso il 4-3-3, se era detto, 4-3-3 il regista è fondamentale, è fondamentale, il centrocampo a tre, un regista ci deve stare. Poi puoi anche mettere un mediano interditore, ma se hai tante mezzali, non puoi mettere il mediano interditore, dovresti mettere tendenzialmente appunto il regista, anche perché hai tutte mezzali fisiche, Zaccaria, Locatelli, pure lui, Pogba, McKennie, quindi ti sei circondato di giocatori alti, e robusti, o comunque con una certa fisicità, quindi non puoi fare il discorso, perché altrimenti avresti dovuto prendere i brevi linei, con la grande capacità di tecnica e di palleggio da mettere sugli interni, quindi ai lati del mediano, e il mediano poteva anche essere il frangiflutti, e quindi l'interditore. Non hai costruito la squadra in questo modo, se è 4-3-3 il regista è fondamentale, e quindi chi ci vai a mettere? Io vorrei che la Juve fosse accostata accostata a nomi di registi importanti a livello europeo, ve ne faccio in particolare 5. Due dei quali vi ho già proposto da tempo, perché sono due miei pupilli, due giocatori che secondo me sono molto validi, poi mi si dirà, ma chi sono, ma che hanno vinto, e poi però si applaude come le scimmiette quando arriva Zaccaria. Non vi sto dando delle scimmiette, si applaude come le scimmiette, cioè nel senso così senza criterio, arriva Zaccaria, è grande Zaccaria, cioè per dirvi, un nome che vi faccio è Florian Neuhaus, che gioca pure lui nel Borussia Mönchengladbach, è stato compagno di Zaccaria fino a gennaio, perché Zaccaria va bene con il Mönchengladbach che è finito decimo in Bundesliga, e non è che finché c'era Zaccaria lottasse per vincere il titolo, la stessa cosa, e mentre Neuhaus non dovrebbe andare bene. Neuhaus è nato il 16 marzo 1997, quest'anno ha compiuto 25 anni, va in scadenza nel 2024, quindi puoi andare a trattare con il Borussia Mönchengladbach, è un giocatore tedesco con qualche apparizione nazionale, che, tornando ad un discorso che ho già fatto in un mio video, quando compriamo i giocatori, compriamo i loro golli, i loro assist, in media tra Fortuna Dusseldorf e Borussia Mönchengladbach nelle ultime stagioni ha accumulato una media di 5 gol e 5 assist a stagione, così tanto per gradire, poi ovviamente il regista non deve fare gol lui o assist lui, deve favorire con la costruzione e l'impostazione un gioco di rifinitura e d'attacco che arriverà che perviene alla realizzazione del gol per il tramite degli assist. Quindi l'importanza di un regista non la vedi dai gol e assist che iscrive lui sul suo tabellino, ma da quelli che fa fare ai compagni, quindi bisogna valutare un po' tutto quanto il contesto. Neuhaus è un centrocampista in particolare che sa giocare bene sia sul corto che sul lungo. Non è uno che velocizza tantissimo, però poi sa anche segnare a un ottimo tiro dalla distanza visto che cerchiamo i centrocampisti con i gol nelle gambe ed è uno che non disdegna assolutamente a stare basso davanti alla difesa con un forte dialogo molto intenso con i difensori centrali. Però ecco, il discorso è anche questo. Che Juve vedremo? Un'altra volta una Juve asserraiata in area di rigore in cui il mediano, cioè il primo centrocampista che riceve palla non serve a niente perché anzi se la passi centralmente al mediano ci vengono ad aggredire perché siamo schiacciati dietro e quindi devi smistare sugli esterni perché se è così appunto il regista neanche serve perché sarebbe uno spreco sarebbe uno spreco ma puoi avere una squadra nel 2022-2023 che non ha un regista che imposta l'azione come fai a portare il pallone in attacco solo e soltanto con gli strappi con la verticalità con il pallone sulle fasce e Di Maria secondo voi riceve il pallone nel nostro terzo difensivo si abbassa a fare il controterzino lì dietro e aspetta che gli danno palla per andarsi a fare 70 metri di campo buonanotte state freschi così come anche Pogba non è così volenteroso di fare la fase difensiva e quindi credo che bisognerebbe fare altri ragionamenti Neuhaus è un nome poi ci sarebbe Yuri Tileman ma Tileman purtroppo sembra che sia già promesso all'Arsenal sarebbe stato bello che la Juve fosse entrata in una trattativa con il Leicester che lo sta vendendo Tileman ha anche rilasciato le dichiarazioni facendo intendere che se ne potrebbe andare il suo contratto scade l'anno prossimo 2023 nato il 7 maggio 1997 quindi un altro 25enne belga come sapete che ha una media simile tra Monchen Gladbach scusatemi tra Monaco e Leicester a Neuhaus cioè 6 gol e 5 assist a stagione e lui più che il regista mediano è un regista mezzala perché ha giocato frequentemente a 2 sul lato destro però è uno che imposta ecco quindi vuoi fare il centrocampo a 2 Tileman sarebbe sarebbe stato perfetto sempre al netto di andare a sfoltire il centrocampo ma per Tileman non c'è mai stata la Juve se andate a leggere di quello che si diceva già ad aprile subito l'Arsenal sul giocatore belga e Juve defilata senza un vero interessamento un bel peccato non essere interessati a un giocatore come Tileman si sta parlando poi di Paredes argentino del Paris Saint Germain scadenza 2024 nato il 29 giugno 94 quindi praticamente domani oggi è 28 domani compirà 28 anni che tra Roma Zenit San Pietroburgo e Paris Saint Germain ha accumulato una media di 3 gol e 5 assist a stagione ripeto non è quello che si deve vedere Paredes a me piace da tempo perché a differenza di altri velocizza effettivamente il gioco può stare effettivamente in posizione di mediano davanti alla difesa è un regista vero bravo ottima tecnica insomma sarebbe un giocatore valido ha giocato con campioni nel Paris Saint Germain quindi si è anche affinato da questo punto di vista ha alzato il suo livello vediamo se effettivamente si farà qualche cosa per Paredes se ne sta parlando però ripeto ci si arriva tardi dopo che hai già indirizzato la costruzione della rosa con Di Maria con Pogba e il regista magari non c'è spazio cioè io per dirvi per dirvela tutta io Pogba non l'avrei ripreso io avrei preso il regista basta piuttosto avrei perfetto spendere dei soldi per pagare il cartellino piuttosto che andare a dare un sacco di soldi a Pogba per fare l'ennesima mezzala che poi voglio vedere se gioca meglio di Rabiot ve lo dico qui voglio proprio vedere se Pogba gioca meglio di Rabiot ma davvero voglio proprio vedere se gioca meglio di Rabiot per dire e poi altri due nomi sono Giorginio che a me non ha mai fatto impazzire però capisco con una scadenza 2023 e la situazione del Chelsea che può vendere perché può comprare può fare tutto quello che vuole magari ci si potrebbe si potrebbe accendere una lampadina però ripeto non fai un grosso upgrade del centrocampo e se ne sta parlando in ritardo lui è nato il 20 dicembre 91 quindi quest'anno compia 31 anni ecco magari non sarebbe l'ideale e è vero che lui segna tira anche i rigori ma tra Napoli e Chelsea ha accumulato una media di 4 gol e 3 assist a stagione questo significa che ha un contributo inferiore agli altri che vi ho nominato ma ripeto non è il regista in prima persona che deve fare con le assist e infine il mio prediletto da sempre Ruben Neves portoghese del Wolverhampton visto che stiamo parlando con Jorge Mendes per Di Maria e per magari qualcun altro possiamo parlare anche per Ruben Neves che ha assistito pure lui dalla gesti footer 13 marzo 97 25 anni pure lui scadenza 2024 è il più costoso probabilmente di questi nomi che vi ho proposto con i Wolves 5 gol e 2 assist in media a stagione nelle stagioni che ha disputato ed è uno che ha il fisico bravissimo sul gioco lungo bravissimo sul tiro da lontano visione di gioco sui ritmi niente male verticalizza veramente sarebbe il mediano regista ideale però come dicevo l'unico nome a cui veramente la Juve è stata accostata e viene accostata attualmente è quello di Paredes che assolutamente mi andrebbe bene mi andrebbe bene però è tutto da capire come viene formulato il centrocampo intanto Pogba è una certezza poi si valuteranno in precampionato Fagioli Miretti Rovella mentre Ranocchia è già destinato ad andare via in prestito su di lui la decisione è stata già presa e sono tre poi bisogna vedere se il rabbione nel frattempo se ne va o resta Artur è in vendita ma bisogna vedere chi se lo compra McKennie se arrivano offerte altrimenti deve pur trovare una collocazione Zakari è stato appena acquistato e abbiamo già detto che forse sarebbero pure disposti già a venderlo complimenti per aver speso 8 milioni per un giocatore che adesso sarebbe stato gratis e poi resta Locatelli come fulcro come giocatore inamovibile e incedibile ma con quali compiti e quindi poi alla fine tutto questo discorso chi sarà il regista della Juventus 22-23 al di là che lo si vada a comprare o che lo si costruisca con quelli già a disposizione grazie per la vostra attenzione buon dibattito nei commenti sul regista della Juventus quello che comprereste o quello che sarà secondo voi a prescindere da tutto like al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e abbonatevi a questo canale a partire da 99 centesimi al mese per avere tanti vantaggi tra cui le chat vocali e anche tutte le altre chat riservate sul mio server discord link in descrizione e per conoscere la programmazione dei miei video in anticipo con tutti gli orari giornalmente ci vediamo molto presto e sempre forza Juve